Ciao a tutti, bentornati sul canale. Allora, Ashet mi ha mandato altri quattro numeri di Planet Metal. Questa volta sono i numeri che vanno dal 35 al 38 e le band sono gli storici Voivod, i Melvins che non ho mai sentito, i Judas Priest che ovviamente conosco a menadito e i Deftons che conosco solo per la loro storia, la loro fama diciamo, ma non li ho mai seguiti. Quindi quale occasione migliore per sfogliare insieme questi quattro volumi e andare a vedere le cose che già conosco ma anche quelle che non conosco. Allora, iniziamo con il numero 35 che è dedicato ai Voivod, diciamo una band storica, band venuta dal freddo e diciamo, band storica del Trash Metal. Devo dire che è una di quelle band che ho sempre conosciuto, ho sentito più o meno nel corso del tempo ma diciamo che non ho mai approfondito troppo. Ma sono diciamo quei nomi talmente famosi che vuoi o non vuoi ne senti parlare sempre. Poi diciamo che nel corso degli anni diciamo ci sono stati degli ottimi album che hanno rilasciato quindi più o meno li ho sempre seguiti. Non ho la loro discografia, voi sapete che io tendo sempre a collezionare le discografie dei gruppi che sento ma diciamo solo di quelli che proprio mi influenzano o che mi sono piaciuti sin da piccolo fondamentalmente. Diciamo che ecco qui possiamo nominare Dimension Atros come disco fondamentale. Abbiamo Nothing Face, poi abbiamo The Outer Limits che è praticamente uno dei più famosi di questo genere, di questa band e abbiamo anche The Wake. Poi qui possiamo vedere tutta la loro discografia che come potete vedere insomma tra l'84 e il 2002 è sempre stata piuttosto costante. Quindi devo dire che fondamentalmente posso cogliere l'occasione di questo volume per approfondire un po' di più questa band che oggettivamente non ho mai troppo frequentato perché comunque diciamo il tempo è poco, le band che seguo già sono tante quindi alla fine qualcuno l'ho dovuto sacrificare ed è toccato ai Voivod. Per quanto riguarda i Melvins mi limito semplicemente a sfogliare questo volume perché proprio non so neanche che cosa suonino. Ovviamente so che una band hard rock o heavy metal altrimenti non farebbe parte di questa collana però diciamo non avevo neanche l'idea che esistessero per cui mi interessa vedere la loro discografia fondamentalmente per vedere quanto è lunga. Eccoci qua. E devo dire che mi sembra molto complessa come discografia perché vedete dall'87 al 2002 hanno pubblicato roba incessantemente. Quindi magari è un'ottima occasione per iniziare a sentirli. Proprio diciamo non ne avevo proprio idea ma mi perdonerete se tra di voi c'è qualche super fan dei Melvins ma come ho detto prima le band da seguire sono veramente troppe. Io poi mi affeziono e mi lego solo a quelle che adoro di più. Ovviamente i Judas Priest non hanno bisogno di presentazione sono una delle mie band preferite qui vediamo una delle line up classiche quando c'era ancora Les Binks alla batteria quindi proprio all'inizio. E che dire sono diciamo insieme ai Black Sabbath una delle band capostipidi del genere quelle che hanno grossomodo creato all'inizio questa potenza sonora. Qui li vediamo con Simon Phillips che registra solo l'album scene after scene. Diciamo ne ha fatto uno solo con loro poi si è dedicato a roba più adatta a lui. Vediamo qui il batterista Dave Holland che è quello dei dischi tra virgolette un po' più famosi. E poi si passa chiaramente al periodo di team The Ripper Owens che ha sostituito Rob Balford negli anni 90 e secondo me ha prodotto con loro due ottimi dischi molto sottovalutati specialmente il secondo. Poi vabbè chiaramente è tornato Halford quindi tutto si è risistemato ed è riandato per il verso che doveva. Però insomma dobbiamo citare per forza album come scene after scene, British Still ovviamente, Painkiller vabbè che è inutile commentarlo e Firepower l'ultimo album devo dire che è veramente qualcosa di spettacolare. Non vedo l'ora tra l'altro che esca l'ultimo disco. Diciamo non capisco la presenza di questo signore qui che è uno dei produttori più bravi e più incredibili del mondo. Sto parlando ovviamente di Andy Snipp ma come chitarrista nei priest proprio non ce lo vedo quindi non capisco perché non si riprendano KK Downing una volta per tutte. Diciamo che qui ci sarebbe da dire veramente tante cose ma io immagino che una band come i Judas Priest siano veramente conosciute da tutti. Qui possiamo vedere che chiaramente oltre a Halford c'è stato Timo Wenz alla voce, il bassista Ian Hill, KK Downing, Richie Falkner che è il chitarrista attuale, Les Binks, Dave Holland, Scott Travis batterista attuale. Ovviamente quando si parla di priest si parla di moto, sono sempre presenti e quindi adesso mi sa che mi vado proprio a risentire painkiller proprio per andare a vedere se mi è rimasta quella foga che mi hanno sempre trasmesso. Deftones, allora altro nome che ovviamente conosco perché è molto importante sulla scena o nella scena come vi piace di più ma diciamo non ho mai seguito quindi anche in questo caso non ne so praticamente nulla. Mi interessa quindi particolarmente vedere la loro discografia per vedere quante cose mi sono perso però diciamo che ovviamente alla fine una persona tende a sentire o a seguire quelle 10-15 band poi insomma non è che si può ascoltare tutto anche perché la memoria è quella che è. La discografia tra il 95 e il 2020 è abbastanza costante quindi essendo una band relativamente nuova tra virgolette insomma è ha prodotto una buona discografia quindi sicuramente mi interessa andare a conoscerli più approfonditamente. Diciamo che sono una di quelle band che mi sono capitate sotto occhio sotto orecchio forse per meglio dire molto spesso però non ho mai sentito devo capirne il motivo un attimo meglio probabilmente avranno fatto un tipo di musica che per me non è molto familiare quindi li ho tra virgolette snobbati ma grazie a Planet Metal li conosco e li aggiungerò al mio bagaglio culturale. Quindi che dire questa collana è molto importante per me e anche per tutti quelli che non conoscono molti di queste band perché chiaramente è un'occasione ottima per imparare e conoscere nomi nuovi perché alla fine si tende sempre a sentire quello che ci piace da sempre diciamo ci piace rimanere nella comfort zone e invece in questo modo trovo che sia carino uscire proprio da questa comfort zone e andare a sentire band ad esempio come i Deftons o ad esempio come i Melvins che non conoscevo proprio. Quindi invito tutti voi a scrivermi nei commenti se invece conoscete queste band magari consigliandomi qualche disco particolare al di là di quelli che sono scritti qua sopra che posso chiaramente leggere da solo. Per cui a questo punto vi chiedo il solito pollice in su se vi è piaciuto il video e vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanellina così da non perdere nessuno dei miei prossimi video. Ora vi saluto e ci vediamo molto presto nei prossimi giorni. Ciao! Ciao!